L'offerta formativa dell'Università di Sassari si arricchisce di corsi e opportunità per gli studenti. Ci dice di più Roberta D'Ore. 58 corsi di laurea di cui sei internazionali, un'offerta didattica che per il prossimo anno accademico è importanti novità, a cominciare dall'istituzione della laurea triennale in scienze motori e sportive, in progettazione, gestione e promozioni turistiche, quella magistrale in scienze politiche e giuridiche per l'amministrazione, ma per potenziare il percorso formativo l'Ateno di Sassari ha fondato la Scuola Superiore di Sardegna, volta a favorire una formazione di qualità priva di costi grazie alle borse di studio per gli studenti più meritevoli. C'è una domanda importante da parte degli studenti di questo tipo di formazione che di solito fino adesso ha trovato risposta nel continente. Adesso anche l'Università di Sassari attiva questo tipo di percorsi e, ripeto, permetterà ai nostri studenti migliori di poter usufruire di borse di studio, esenzione dalle tasse e, soprattutto, l'accesso a corsi di livello superiore che, però, peraltro, saranno aperti anche a chi vuole. Le iscrizioni al bando di concorso saranno aperte dal 20 luglio al 13 settembre. La prova di ammissione è prevista 12 giorni dopo, 25 posti disponibili. E, intanto, oggi è stata anche l'occasione per inaugurare il nuovo Student Hub nel polo umanistico in Via Roma, spazio che, insieme agli altri già attivi, al quadrilatero, al polo bionaturalistico di Via Pian Danne e in Via Vienna, sarà aperto anche nel fine settimana per facilitare così attività di studio e socializzazione degli iscritti.